Anche stavolta è mamma Catarina a festeggiare e a consolare Carolina. L'esperienza del Volley 2001 Garlasco, capolizza del suo girone di B2, batte la gioventù dell'Uiba Bustarsizio, diretta emanazione della formazione di Serie A, confermando che non è ancora tempo di passaggio di consegne tra l'opposto, Catarina Covaceva, tanti anni in Serie A tra Sicilia, Villa Cortese e la stessa Busto, e sua figlia Carolina, sedicenne promessa Bustocca, schiacciatrice. Il calendario le ha messe nello stesso girone e loro si sono sfidate. Catarina titolare per Carolina, stavolta solo un breve scampolo. Sedici anni fa ti aspettavi di vivere questo momento? No, diciamo no, sinceramente no. Ma sono trovata un po' inaspettata, perché poi ho smesso un anno, poi sono tornata e me la sono trovata a lei, quindi è un'emozione bellissima. Sicuramente non da tutti i giorni, è bello, bello. Potrei ora, devo un po' tenermi in forma per giocare qualche anno in più, magari giochiamo anche insieme un anno, finché divento vecchia, giusto? Devi sbrigarti, se no. Invece i tuoi modelli pallavolistici quali sono? Ma, beh, ovviamente mia mamma, perché sicuramente la conosco da tanto, cioè da sempre, è un grandissimo esempio per me. Oltre a Leon, sicuramente la Leonardi, apprezzo moltissimo il suo sforzo e la sua capacità di tenere un gruppo unito e la sua forza che ha e la grinta. Stasera festeggi o tiene un profilo basso per amore di Caro? Sì, sì, no, stiamo tranquilli. Oggi non mi ha cercato in battuta, quindi può tornare con me in macchina.